Quella di Via De Mille può essere definita l'isola pedonale delle polemiche. Il provvedimento di chiusura al transio dell'arteria parallela al Viale San Martino, disposto dal comune di Messina in occasione delle festività natalizie, ha prodotto un nuovo esposto che il Comitato dei Commercianti Contrari ha presentato alla Procura della Repubblica. Palazzo Zanca, si legge nel documento, ha disatteso quanto contenuto nella sentenza del Tar di Catania la numero 2115 del 26 ottobre 2015. Il Tribunale Amministrativo Regionale, accogliendo già il ricorso presentato lo scorso anno, indicava la strada da seguire per l'adozione di nuovi provvedimenti viari che non possono essere adottati se non passando dal Consiglio Comunale e dunque dalla modifica del piano urbano del traffico. La questione è sempre la stessa. Il comune, non curante di quanto stabilito dalla Tar, proseguono i commercianti, ha accolto l'invito dell'Associazione Mille Vetrine, disponendo la chiusura delle strade e scatenando così la contestazione di quella parte degli operatori commerciali delle vie limitrofe. L'isola Petonale torna in tribunale ed a Messina il dibattito prosegue. La chiusura al traffico veicolare diventa motivo di scontro.